La Giunta regionale, quindi Marsilio e Imprudente in maniera particolare, hanno abbandonato del tutto gli agricoltori alla fauna selvatica. Il controllo del cinghiale è stato sospeso e quindi i comandanti delle polizie provinciali sono bloccati dalle nuove leggi della Giunta Marsilio e hanno bloccato del tutto il contrasto alla fauna selvatica. Gli agricoltori si lamentano continuamente e giustamente. Qualche settimana fa il Presidente di Cire regionale ha chiesto un incontro alla Capigruppo e tutti i Capigruppo, soprattutto quelli di maggioranza, compreso il Presidente Sospiri, ha assicurato un intervento legislativo da lì a qualche giorno. Purtroppo sono passate settimane e i danni in agricoltura sono aumentati, così come i danni sulla viabilità.